andiamo a fare la nana col papà che cosa fa il papà ti legge il libro che libro di legge proprio non ce lo scegli tu un libro mi dici tu non possiamo scegliere mezz'ora a scegliere il libro amore ma come no vittoria questo sì ma non puoi rimetterli a posto questo dai leggiamo papà noel necessita tua aiuta vabbè ok non so lo spagnolo ma ci provo necessita tu aiuta tu cuenta espesal de navidad che incluye di buio spara coloreare hai capito ok meno male perché io non ho capito dire buona nanna amore buona nanna papà ti amo 3000